Accostare anima e tango mettendo assieme i caratteristici ritmi sincopati e le dissonanti armonie del tango con la scrittura per il coro e i testi sacri della messa latina per dar vita ad uno stile di grande eleganza ed estremamente coinvolgente. Tutto questo è Misa Tango, il concerto ospitato nella pieve di Santa Maria con il gruppo polifonico Francesco Corradini, diretto dal maestro Vladimiro Vagnetti e la partecipazione straordinaria del compositore Martín Palmeri al pianoforte, voci della solista Gaia Matteini e del quartetto Fancelli. La Misa Tango a Buenos Aires, composta dall'argentino Martín Palmieri, è stata presentata nella capitale argentina per la prima volta dall'Orchestra Sinfonica Nazionale di Cuba nel 1996 e da allora è stata un'escalation di successo. L'autore utilizza infatti con straordinaria fantasia le tecniche tipiche del tango per esaltare i testi sacri.